Oggi sarebbe dovuto uscire un altro video, però l'ho deciso di posticipare. Vi avviso perché in questo video ci sarà una sponsor che avrei preferito far slittare in un altro giorno, in un altro video, perché non mi pareva il caso inserirlo in un video del genere, però purtroppo ormai avevo accordi presi da diverso tempo. Quindi se vedete una sponsor all'interno di questo video è perché purtroppo non potevo slittarla in altre. Per il resto, buona visione. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Guardate questo video fino alla fine perché è per la vostra sicurezza e per non farvi truffare, perché ciò che sta avvenendo in quest'ultimo periodo è molto grave. E oggi come non mai vi chiedo di essere attivi sotto questo video con commenti, mi piace, eccetera, e chi volesse anche condividere, perché così almeno arriva a tutti gli iscritti del canale e non solo alcuni. Dato che questa cosa, ripeto, è molto importante e soprattutto grave purtroppo, la situazione probabilmente sta sfuggendo di mano. Ma di che problema sto parlando? Beh, degli account falsi che girano qua su YouTube a proporre delle grosse truffe. Questo è un problema che sta affliggendo tutta YouTube, tutti i creator. Infatti ho visto l'altro giorno un video di un creator americano con milioni di iscritti lamentarsi di questo problema, perché ad ogni tipologia di canale c'è una truffa diversa. Chi parla di tecnologia fanno dei finti contest magari a pagamento. Chi parla di finanza personale, come nel mio caso, purtroppo le truffe sono economiche e non sono spiccioli. D'accordo? Quindi davvero state attaccati per tutto il video, perché non voglio che nessuno cada in una di queste truffe, tra l'altro a nome mio. Prima di continuare con il discorso, voglio farvi capire di cosa io effettivamente stia parlando. Di questi commenti. Altri copiano addirittura il nome, però certe volte appunto per quello che scrivono nei commenti viene autocensurato da YouTube. Però in altri casi fanno una cosa del genere. Mettono nel titolo il loro numero WhatsApp con cui fanno le truffe. Tra l'altro guardate bene il prefisso che non è appunto quello italiano. Ma poi scrivono per aiuto linee guida su investimenti sopra. E lo so che può sembrare strano che qualcuno possa cascarci, ma vi assicuro che la cosa non è poi così scontata. Come esempio vi porto quest'utente, ma davvero ce ne sono diversi. Che giustamente Michael non sarà esperto della piattaforma di YouTube, non sarà esperto di social e scrive Ciao a tutti, ho contattato Alessandro per delucidazioni e mi è stato inviato un messaggio con un numero WhatsApp, logicamente non italiano. E la cosa più strana è che nei video parla benissimo italiano ed è molto disponibile. Per messaggio sembrava più una cosa schematizzata, come se a rispondere fosse uno con le risposte pronte con l'italiano, tipo di Google Translate. Questo utente comunque dimostra il fatto che stia capendo che non sia io, ma non ne è nemmeno così certo. Vi interrompo per qualche istante per presentarvi lo sponsor di oggi, che è nuovamente Kyrex. Come ben sapete Kyrex è un exchange che però questa volta ci vuole presentare una funzione molto particolare, ovvero Kyrex Bot. Uno dei primi bot telegram in grado di farti acquistare, vendere e mettere in staking criptovalute. Vediamo qua alcuni dei suoi vantaggi, tra cui 0% per quanto riguarda il deposito e il prelievo e lo 0.1% per l'exchange delle criptovalute. Ma nello specifico questo bot cosa fa? Lo vediamo qui. Può essere un portafoglio cripto, naturalmente, un crypto exchange, uno storage di cripto, un AML compliance che ci va a far vedere i rischi riguardo ai vari indirizzi e un auto conversion. E qua vediamo un pochino come funziona e a breve ve lo mostro molto velocemente. Cosa è nuova? È possibile naturalmente mettere in staking con queste percentuali sempre grazie al Kyrex Bot. Sempre, tra l'altro, grazie a questo bot telegram è possibile inserire dei limit orders, quindi decidere quando effettivamente comprare, vendere, eccetera. Tutto, ripeto, da un bot telegram. E adesso ve lo faccio vedere. Se andate su Start Now partirà appunto la pagina che vi chiederà di rendirizzarvi su Telegram. E adesso lo facciamo. Una volta che ci troviamo su Telegram, clicchiamo Start, ci chiederà la lingua, io faccio English e qua ci chiede appunto di selezionare. Ora vi mostro molto semplicemente come effettuare ad esempio un deposito. Facciamo Start, questo è il nostro account in D con tutto il nostro conto. Da qui andremo a fare Wallet, Deposit, se dobbiamo ritirare invece facciamo l'inverso. Selezioniamo in che cripto, queste sono quelle disponibili, ad esempio USDT. E qua ci chiede addirittura la blockchain TRC20 e ci restituirà l'indirizzo dopo che facciamo conferma. Ed eccolo qua, lista di indirizzi o altrimenti ne creiamo un altro. Qua è l'indirizzo che ho. Lo vado a copiare e ci andrò a fare ad esempio un deposito. Grazie mille Kyrex per aver sponsorizzato questo video, ma ora è giunto il momento di ritornare al nostro video. La cosa che però più mi dispiace sono quelle persone che effettivamente ci possono essere cascate ad una cosa del genere. Ora, se anche tu non sei esperto della piattaforma, non capisci bene le cose come funzionino all'interno dei social, ti mostro cosa guardare se dovessi ricevere un commento molto strano o comunque un commento da parte mia o di qualsiasi altro creator. Perché è importante capire come riconoscere un commento reale da quello falso. Purtroppo il verificato lo danno solo ai creator o davvero molto famosi nell'ambito televisivo o ad esempio sopra i 100.000 iscritti. Quindi purtroppo nel mio caso è ancora un pochino lontano. Ma vediamo un attimo come capire almeno che sia io a rispondervi o no. Ok, sono sotto il mio video ma senza che io abbia fatto l'accesso in modo tale che abbia la stessa vostra schermata. Allora, possiamo vedere che qua ci sono diversi commenti fino a imbattermi in questo qui. Tralasciando il punto che il nome non è Alessandro Otiero, ma purtroppo nemmeno quello basta a vedere se sia un account reale o meno, perché tanti utilizzano il mio stesso nome e cognome. Però come faccio a capire che sia realmente Alessandro Otiero o chiunque esso sia? Basta cliccare sul nome, che in questo caso è Whatsapp. Se cliccando sul nome ci porterà un canale senza video, senza iscritti, senza informazioni. Quest'account è palesemente fake. Ok, questo è l'unico modo più facile che c'è per verificare che quello che vi stia scrivendo sono io o no. Il problema di tutta questa situazione è che il danno è bilaterale. Perché a me si crea un danno all'immagine perché quelle persone che non riescono a filtrare, che quello sia un profilo finto, giustamente cadono in una truffa e la rimandano a me pensando che sia stato io a fare chissà cosa. E nel loro caso giustamente vanno a perdere dei soldi. Questa è una situazione molto, molto complessa, soprattutto perché appunto da parte dei creator noi possiamo, è vero, nascondere quel canale, ma la funzione non è retroattiva, ovvero io posso mutare, diciamo così, il canale, ma tutti i commenti che ha scritto prima YouTube non li cancella. Quindi è una cosa molto pericolosa per entrambi. Quando voi vedete quei commenti, se volete supportare noi creator, segnalatele in massa perché almeno così forse YouTube prima o poi imparerà a riconoscere che quelli sono canali truffa. E non ce n'è uno, non ce n'è due, per ogni creator ce ne sono un'infinità. A me bene o male ogni giorno spunta un account di questi diverso e scrive centinaia di commenti sotto ogni miei video. Una cosa molto importante da sapere, io non vi verrò mai a scrivere a voi commento per commento di scrivermi su un numero WhatsApp strano, perché se avessi la necessità di farlo farei un video dicendovi questo è il numero che ho creato per voi, scrivetemi qui, ok? Io come strumento ho i video, ho dei canali Telegram ufficiali, ho le cose che riporto all'interno appunto del mio sistema. Ma non vi scriverò commento per commento, non vi proporrò business strani, uno perché è illegale, non posso chiedervi nulla, non gestisco i soldi di nessuno e nessun creator, almeno in Italia, fa queste cose che io sappia. D'accordo, quindi se vedete che vi scrivo ho una super offerta, un super business, no. Se ve lo dicessi in un video è un conto, ma non lo farò mai commento per commento e non lo farò mai, tra l'altro con un numero estero stranissimo di provenienza strana e nei commenti dei miei stessi video. So già che tutto il discorso può parere molto scontato, però in realtà è meno scontato il fatto che tanti non sappiano precisamente quale sia la differenza. Pensate quell'utente, ma ce ne sono tanti altri, che ha provato a scrivere quel numero e gli arrivavano risposte strane. Chissà quanti altri sono cascati in questa cosa e non va bene, è gravissima questa cosa, è super grave. Secondo anche quei pochi che pensassero a denunce cose strane da poter fare in difesa, beh no, perché tanti di questi numeri, di questi qua, sono situati in Africa, in Indonesia. Sono dei truffatori che fanno questo di lavoro e modi di denunciarli, beh sappiate che non esistono. L'unico è tutelarvi facendo conoscere all'utenza questa cosa e sperando che YouTube presto prenda dei provvedimenti molto molto seri, grazie alla sua intelligenza artificiale. Per il video di oggi comunque è tutto, spero vi abbia fatto capire la cosa più importante, ovvero come riconoscere questi truffatori, perché davvero stamattina ho ricevuto un altro di quei commenti, quello lì che vi ho fatto vedere poco fa ad esempio, ho detto cavolo no, non si può continuare in questo modo. Mi dispiace per un lato di avermi messo una sponsor in questo video, ma purtroppo doveva uscire un altro video oggi, l'ho dovuto slittare, non potevo far slittare tutta la programmazione, però questo video era necessario farlo, ok? Io spero che, ripeto, sia stato utile fare questo video, fatemi sapere nei commenti se vi ha contattato qualcuno, se lo avete contattato voi pensando fossi io, è importante capirlo. Ci vediamo a un prossimo video e giovedì tranquilli ritorna una programmazione super standard.